Parliamo con Giacomo Curioni del pareggio, una partita non brillantissima del Pergo, forse volevi fare una gara un po' più offensiva e non ti è riuscita? Sì, nel senso che siamo partiti bene, abbiamo avuto le prime due occasioni, un'ibucata di Zahid per Anelli e un tiro sempre di Anelli su respinta da palla inattiva e poi nel primo tempo abbiamo faticato perché sono d'accordo sul fatto che pensavamo di riuscire a fare una partita un po' più offensiva quando avevamo la palla noi e invece non ci siamo riusciti a farla e nello stesso tempo non siamo riusciti neanche a essere bravi e forti sulle seconde palle, quindi tra il primo e il secondo tempo ci siamo parlati, abbiamo letto questa situazione, abbiamo cercato di sistemarla, nei primi dieci minuti del secondo tempo non sono stato soddisfatto dei miglioramenti con l'inserimento di Albertini abbiamo cambiato un po' il modulo per cercare appunto di capire, di dare un segnale alla squadra che così non andava bene perché non eravamo ben messi in campo in quella situazione quindi poi ho visto la squadra poi crescere e dopo l'espulsione poi a maggior ragione cercavamo la situazione per poterla vincere Quella cosa volevo chiederti insomma ci sono state parecchie palle su Parker ma cos'è mancato? Non sono arrivate sulle seconde palle? Forse è mancata un po' di determinazione, un po' di voglia oggi? No, non è determinazione, non è voglia, ci è mancata un po' la costanza nel riproporre quello che avevamo preparato nel senso che non era stata preparata per giocare la palla lunga su Parker, era preparata per coinvolgere di più le catene esterne Non ci siamo riusciti a farlo e quindi abbiamo adottato quella soluzione lì lunga però diciamo che non eravamo messi predisposti per questa giocata e quindi ogni volta che cadeva la seconda palla non la riuscivamo a raccogliere Dal punto di vista invece se vogliamo vedere dal lato positivo insomma in questa gara non l'avete perso un punto in trasferta quindi da quel punto di vista va bene Siamo usciti da due trasferti con quattro punti quindi quello che era il nostro tallone d'Achille fino a 15 giorni fa, un mese fa prima di andare ad Arsignano Non avevamo raccolto neanche un punto, adesso nelle ultime tre abbiamo raccolto cinque punti, in due non abbiamo subito gol, in una abbiamo subito solo uno Incontravamo la Gianna che era una squadra in salute perché nonostante l'ultima sconfitta di Trento dove meritava qualcosa in più veniva da due vittorie per la vittoria in Coppa Italia quindi va bene, accettiamo, portiamo avanti, siamo ancora fuori dai play-out, ci sono tanti aspetti positivi Adesso si torna in campo con Renate, insomma è un po' che manca la vittoria al Voltini Sì, da qualche partita non sono mancate le prestazioni perché l'ultima con l'Alcione abbiamo fatto forse una delle migliori partite della stagione Quella prima col Padua è stata un po' proibitiva nonostante la squadra avesse fatto una buona prestazione Lavoreremo da domani per poter centrare e dare la soddisfazione ai nostri tifosi che oggi erano tanti, erano numerosi